Cruiser, racer, ecotime, tre modi diversi di interpretare il tempo. Cruiser, stile sportivo, con costruzione antiurto e resistente all'acqua. Ha il centurino resistente e flessibile. Movimento al quarzo, indicatore dell'ora in formato analogico, lancetta indicazione ore fluorescenti, datario e tasto dedicato alla regolazione del giorno della settimana e della data. Racer, spirito avventuroso, orologio dual time con costruzione antiurto. È impermeabile fino a 100 metri. Con movimento al quarzo, indicatore dell'ora in formato digitale e analogico. Ha lancette luminose al buio e ghiera rotativa. Cinque allarmi giornalieri, calendario, cronometro, conto alla rovescia. Ecotime, spirito libero, orologio cronografo dual time a carica solare con costruzione antiurto. Impermeabile fino a 100 metri di profondità. Illuminazione quadrante elettroluminescente. Display LCD. Calendario. Cronometro. Conto alla rovescia. Cinque allarmi giornalieri per ricordare appuntamenti. Ecotime ha una batteria ricaricabile tramite carica solare. Autore dei trasi. Piccili. Autore dei sali.